602 milioni di euro, a tanto, ammonta il conto finale in termini di perdite della gestione dell'emergenza della Tercas, la più importante banca abruzzese. Coprire le norme buco non è stato facile, ma la paziente opera di ricostruzione, messa in atto dal commissario straordinario Riccardo Sora, ha consentito di mettere in atto una complicata operazione che da settembre consentirà di rimettersi in carreggiata con un nuovo azionista, la Banca Popolare di Bari. Ad intervenire oggi, dopo lo svelamento ufficiale del buco della Tercas, il presidente della Fondazione, Mario Nuzzo. La pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea e della relazione del commissario segna un momento molto importante nella storia della banca e con riflessi molto importanti per il territorio. Chiudono una fase estremamente critica, nella quale ci sono stati momenti di eccezionale pericolo per la sopravvivenza della banca e per impatti durissimi, ancora più duri, sul territorio e aprono una fase successiva, che è la fase della ricomposizione e della ripresa. Secondo le linee, devo prevedere, di cui abbiamo sempre parlato, cioè la creazione di una banca del territorio che sia mirata al sostegno del territorio, sia presente sul territorio e riprenda le funzioni che storicamente le casse di risparmio hanno avuto sul territorio. Non soltanto quelle che fa qualunque banca, cioè di raccogliere e poi di erogare credito, ma quelle specifiche delle casse di risparmio, le quali sono sempre stati soggetti che hanno svolto una funzione anticiclica, raccogliendo, non distribuendo tutti gli utili possibili, come fa una banca ordinaria, ma conservandoli per poterli rierogare sul territorio nei momenti di difficoltà. Questo corrisponde, in questa fase storica, evidentemente a un'esigenza straordinaria di tutto il territorio e dà senso al sacrificio che tutti stiamo sopportando in maniera molto forte per conservare la banca. Infine c'è la ricapitalizzazione. Questo consente alla banca, io spero in tempi molto rapidi, entro il mese di agosto, spererei primissimi di settembre, di diventare operativa secondo la sua operatività ordinaria. Questo è una cosa che credo che tutti attendiamo molto. Mi aspetto molto dalla ripresa dell'operatività ordinaria della banca in termini di capacità di interpretare i bisogni del territorio, quindi in termini di impieghi e di sostegno nei confronti delle famiglie e del sistema delle imprese.